Ciao amici di DJFood20, vieni, 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 questo è il nostro studio, lo conoscete, insomma non ha segreti, questa è la nostra diretta, vieni, vieni, vieni pure, vieni pure, però vi faccio vedere una cosa che non avete ancora visto, il mio braccio col tutore, pensate nonostante offeso nel fisico, questa creatività scoppiettante che sgorga da ogni dove, talvolta anche dai buchi delle orecchie, ha concepito diversi brani di Pino Daniele che canta canzoni non sue, ascoltateli su DJ.it, vado!